Il colpo di testa da allontanare è stato di Jovedes ma di nuovo dalle parti di Florenzi Finta di Florenzi, il cross, il colpo di testa di Chiellini Rigore per l'Italia, colpo di mano, rigore per l'Italia Rigorissimo, no rigore, rigorissimo Salta bracciala Boatenghi, rigore netto sul colpo di testa di Chiellini Bonucci va a prendersi il pallone Ci voleva una botta di fortuna Ma il cazzo 1-1, Bonucci non ha guardato Buffon Pareggia l'Italia, anche il patriesimo per secondo tempo Si è preso una responsabilità enorme Leonardo Bonucci Neuer a dove ha intuito, non è arrivato Italia 1, Germania 1, siamo di nuovo in cortina Bonucci, Bonucci con tutti i suoi amici, i suoi genitori Una scena bellissima Guarda cosa vuol dire la parata di Gigi Buffon Che ha impedito il 2-0 a Gomez L'esecuzione perfetta di Leonardo Bonucci Che segna il suo quarto gol con la maglia della nazionale Sicuramente il più importante L'Italia ha pareggiato e questa è l'esultanza di Bonucci Di fronte ai suoi familiari, ai suoi amici Come ci ha raccontato Alessandro Antinelli E questa è la reazione di Antonio Conte Al pareggio di Leonardo Bonucci